Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto risposta e chiediamo con urgenza che venga istituito questo tavolo perché è fondamentale garantire i servizi, ma anche il lavoro di tante persone che lavorano nell'esternalizzazione e negli appalti. L'apertura del nuovo ospedale di Schiavonia mette a rischio un centinaio di posti di lavoro. La denuncia arriva dalla CGL che sottolinea come la situazione dei lavoratori impiegati nei cup, nei bar, nella ristorazione e nelle pulizie sia di grande incertezza. I 54 dipendenti del CUP per esempio passeranno a un contratto a tempo determinato. La comunicazione è stata data direttamente ai lavoratori scavalcando il sindacato. Noi abbiamo chiesto un incontro, siamo anche andati in provincia, non siamo riusciti a ottenere risposte né dalla ULS né tantomeno dalla nuova appaltante, per cui non siamo in grado di sapere assolutamente nulla sul futuro di questi lavoratori. Quindi sappiamo da loro stessi che gli è stato proposto un contratto determinato di sei mesi e anche una riduzione oraria. Non va meglio per i 15 lavoratori, 14 sono giovani donne, dei quattro bar degli ospedali di Monselice, Este, Conselve e Montagnana. I bar resteranno in strutture che rischiano di vedere molto ridotte le presenze di pazienti e familiari ed è quindi probabile che ci saranno degli esuberi. La CGL chiede un confronto urgente con l'ULS 17. Riteniamo che in questo contesto l'amministrazione non possa esimersi dall'esercitare un controllo stretto su quelli che saranno l'entrappaltatore ed eventuali subappalti e in questo caso anche di mantenere l'attuale livello occupazionale pur di garantire i servizi ai cittadini e agli utenti.